Buongiorno direttore, siamo qui oggi in questo incontro dedicato all'intersezione tra Space Economy e Blue Economy. Abbiamo visto dagli interventi finora che la Space Economy non è poi così lontana dal nostro quotidiano, anzi è un tema molto trasversale. Qual è la vostra posizione? La posizione nostra è assolutamente sì intanto, noi siamo arrivati ovviamente da una prospezione prima forzatamente tecnologica, esperienze diciamo nostre di aziende che tendevano a lavorare proprio nel contesto principalmente se si parla di upstream e downstream. upstream sono le infrastrutture. Passata questa prima fase ben presto ci si accorse ma fu facile accorgersi della trasversalità assoluta di questa meta applicazione. I dati provenienti dallo spazio con le varie declinazioni possono essere utili ovviamente nei trasporti, nell'economia, nella valutazione anche delle infrastrutture, la situazione, prendiamo la portualità, la sicurezza, decisioni per esempio prese in tempo reale grazie all'uso dei satelliti e quant'altro. Quindi ma progressivamente questa cosa si vede come può essere estesa al sociale tantissimo, con tantissime applicazioni, quindi un business che può essere estese, può essere veramente da tecnologie innovative estendersi e dare beneficio, creare occupazione e valore. In quest'ottica noi ce ne stiamo occupando quindi la prima fase per rispondere alla sua domanda è stata come persona di azienda per sviluppare un business che era coerente con quello del grande gruppo a cui appartenevo. Questa seconda fase in un distretto che si occupa anche delle piccole e medie imprese, della crescita del valore, delle start-up, spin-off, della valorizzazione della ricerca e delle ricadute sul sociale sicuramente è una fase molto interessante che può dare dei risultati inaspettati e un benessere diciamo diffuso. E quali sono secondo lei le prospettive di innovazione più interessanti in quest'ottica? Dove si dovrebbero concentrare PMI, start-up, insomma chi vuole presentare nuovi progetti? Indubbiamente le PMI rappresentano un fattore di accelerazione formidabile. Noi tra i nostri soci abbiamo circa 250 PMI e una percentuale elevatissima di quelle sono passati da un modello body rental che era in uso negli anni 90, 2000 eccetera, un modello proprio di specializzazione tecnologica. Ci sono delle PMI che hanno una capacità tecnologica tale per cui sono competitive su uno scenario internazionale. Uno degli obiettivi che abbiamo noi è proprio quello di cercare di aggregare queste forze in modo da dare una forza integrata diciamo di rilievo che possa essere competitiva a livello anche nazionale e internazionale anche con grosse realtà. Questo è una cosa secondo me noi raggiungibile perché c'è parecchia volontà e tante PMI hanno realizzato la collaborazione e l'arma vincente. E può essere un ottimo complemento a quello che le grandi imprese sono strutturate finanziariamente e quant'altro però che in genere l'applicazione delle nuove tecnologie è sempre un po' frenata da tante considerazioni mentre invece le piccole hanno una catena di decisione così corta che può mettere a terra come usa dire adesso tantissime applicazioni di rilievo e in questo settore in modo particolare.